Buongiorno a tutti, noi del ristorante Trussardi alla Scala oggi abbiamo portato un carciofo in barigoul farcito di polpa di granchio e affogato in una bouillabaisse. È una ricetta classica diciamo filo francese che noi abbiamo rivisto con un carciofo tipico romano che è la mammola. Viene cotto in questo barigoul che è un bagno acidulo, poi farcito di questa farcia che è mascarpone, polpa di granchio reale, erba cipollina e limone candito, avvolto in un guanciale, passato in forno per dargli una leggera gratinatura e affogato nella bouillabaisse che è la classica zuppa di pesce francese fatta con i pesci di zuppa aromatizzata con una base di zafferano. Eventi di questo genere sono molto importanti, noi siamo molto legati a questo evento, è il terzo anno che sono executive del Trussardi anche se è dieci anni che sono lì e è il terzo anno al quale partecipo, punto primo perché è molto importante e dà molta visione, punto secondo perché sono molto legato al progetto e punto terzo perché comunque essendo una famiglia di Bergamo a un evento a Bergamo non possiamo non partecipare perché la mia zona è bergamasca.